Sull'azionamento sono presenti due coppie di LED. La prima coppia, Ready Error, segnala lo stato dell'azionamento, abilitato, pronto a partire o in errore. In questo caso, finché non viene dato il comando di Start, il LED Ready rimane lampeggiante mentre quello di errore è spento. Quando l'azionamento viene avviato, il LED lampeggiante passa in stato di acceso. L'altra coppia di LED, Communication Error, segnala lo stato della comunicazione sul bus di campo, ciò indica se è in corso un trasferimento dati o un errore di comunicazione. I LED lampeggiano finché il WLB3 non viene configurato per la comunicazione su bus. Una volta eseguita, i LED rimangono spenti. Nel momento in cui viene stabilita la corretta comunicazione, il LED Error rimane spento e quello di comunicazione lampeggia velocemente. Per la casistica completa, consulta il manuale d'uso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.